Il mio nome è Axel. Che vuol dire? Tornado di fuoco. Vengo dagli oceani dell'America. Sogni particolari. Vorrei salvare il mondo. Il mio più grande sogno è stare sempre con i miei genitori perché mi hanno fatto nascere, crescere ed imparare tante cose. Camminare, mangiare da solo ed essere sempre felice. Quando diventerò grande non mi vorrò staccare da loro perché sono la cosa che amo di più. La cosa che mi piace di me è che sono umile. Qua ho disegnato l'alga. Questo è un corello. Qua c'è lo scrigno e questa è la torre del mare. Porta in un mondo sconosciuto. Una specie di vulcani, piccoli vulcani. Sono una specie di vulcani che sputano bolle. E bolle come quelle di sapone. Una foto. Il mio più grande amico è sempre disponibile in ogni cosa e aiuta sempre bisognosi. Il mio più grande amico è sempre più grande. Grazie. Grazie. Grazie.